Buonasera a tutti. Vediamo subito cosa è successo quest'oggi. 206 nuovi casi in regione che portano a un totale di 769 casi a massacraria dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nella Quane oggi registriamo un totale di 29 casi di cui ammassa 9. E sappiamo che il dato è un dato che va interpretato e analizzato e adesso vi dirò in che forma, però va sempre preso come un'attestazione che dobbiamo restare a casa, che l'isolamento va mantenuto, che i casi ancora di contagio vengono rinvenuti e quindi non siamo in una situazione di tranquillità. Due notizie importanti volevo dire. Allora innanzitutto ci sono dei dati però che vanno anche valutati positivamente. Innanzitutto questi dati che aumentano sono però proporzionati a un aumento molto più importante di tamponi. È evidente che se facciamo 1000 tamponi e troviamo 30 casi è un conto, se facciamo 100 tamponi ne troviamo 30 è diverso. Quindi qua siamo in una situazione in cui i tamponi della regione toscana ne ha fatti più di 4100 e quindi sicuramente qualche migliaio, insomma migliaio sicuramente nella nostra zona della Puane e quindi il dato che ci previene è un dato che ci fa capire che il contagio continua ma probabilmente c'è questo rallentamento. Un rallentamento che però al quale dobbiamo contribuire perché se non rimaniamo a casa tutto questo, tutto lo sforzo che abbiamo fatto fino ad oggi non servirà a nulla. Un altro dato positivo è che calano i ricoveri e calano anche i ricoveri in terapia intensiva. Questo è un dato importante perché ci tranquillizza, vuol dire che il sistema sanitario può reggere in questo momento l'urto dei ricoveri, quindi dei pazienti che hanno più bisogno di cure intensive. D'altra parte è anche vero che i dati regionali ci dicono che la media dell'età scende, quindi abbiamo molti casi sia nei 50 anni e anche sotto i 50 anni e anche si sta riallineando anche il dato uomo-donna, quindi abbiamo anche una proporzione diversa rispetto a quella che si pensava all'inizio, però rimane sempre l'alta letalità, molto più alta per le persone più anziane, quelle più a rischio, quelle che hanno patologie. Questo sicuramente è un dato che viene confermato, però questo ci deve far pensare che tutta la popolazione comunque è ancora a rischio e tutta la popolazione deve tutelarsi ed essere tutelata a qualunque fascia ed età e qualunque tipo di genere. Oggi cosa abbiamo fatto? Abbiamo senza sosta completato l'imbustamento delle mascherine che ha coinvolto decine e decine di volontari. Tanti altri volontari invece oggi della protezione civile per tutta la giornata hanno consegnato casa per casa le buste con le mascherine e le istruzioni per il corretto utilizzo in tutta la zona montana. Abbiamo raggiunto circa 1800 nuclei familiari. Domani inizierà la consegna nel quartiere 2, quindi Destra Frigido, Alteta, Bargana, Bergiola, Lavacchio, Romagnano, Castagnara, Candia, Codupino, Ortola, Frangola, Mirteto, Castagnetola, Castagnola, Stadio Tinelli, insomma è tutto quello che riguarda questa zona. Saranno circa 6.000, poco più di 6.000 nuclei familiari, quindi massima collaborazione, restate a casa, la protezione civile verrà e consegnerà o nella cassetta delle lettere della posta o chi verrà rinvenuto consegnerà questi dispositivi di protezione. Verrà sempre mandato il messaggio telefonico da protezione civile e il passaggio con l'altoparlante della Polizia Municipale che dovrebbe essere avvenuto già nella giornata odierna per avvertire questa parte della popolazione. Una cosa importante, allora perché stiamo consegnando le dotazioni di protezione individuale ai nuclei familiari e perché ne stanno consegnando per adesso 3, considerate che 31.000 nuclei familiari complessivamente che verranno raggiunti da qui al 16 aprile, contiamo di superare la giornata di Pasqua, ma insomma una decina di giorni e che quindi chi non è ancora stato raggiunto verrà raggiunto, perché in questo modo tutti i nuclei familiari, 31.000 nuclei familiari per 3 mascherine equivale a 100.000 mascherine circa, perché? Perché ogni nucleo familiare ha il diritto di avere lo stesso numero di mascherine, perché? Perché queste mascherine non devono essere utilizzate per uscire, sia ben chiaro, non è un invito ad uscire, anzi semmai il contrario proprio perché stiamo dando le mascherine significa che le cautelle devono essere ancora elevate e dovete restare a casa. Chi le deve usare? Una persona dedicata della famiglia che proprio deve uscire, che proprio deve uscire, che solo quella persona deve uscire per andare a fare la spesa in particolar modo, nient'altro. Questa è la dotazione che dobbiamo dare alle famiglie e questa arriverà. Oltretutto sappiamo, abbiamo contatti con la regione, arriveranno successivamente, nei prossimi giorni, prossime settimane altri, quantitativi, ingenti di mascherine, ce ne sarà per tutti, le daremo a tutti di volta in volta, a seconda delle necessità. Ma non vorrei che qualcuno capisse male che siccome stiamo dando le mascherine alla popolazione, la popolazione si deve sentire tranquilla e serena e invogliata ad uscire. È esatto contrario. Le mascherine vengono date perché tutti hanno diritto, quando usciranno di casa per le necessità e solo per le necessità, di avere quella dotazione, perché la regione, da qui alla settimana prossima, dopo Pasqua, imporrà che ciascuno che esce, nei luoghi che sono indicati nel nostro volantino, nel nostro biglietto dell'istruzione, noi riportiamo anche quando deve essere utilizzata e solo quando deve essere utilizzata la mascherina, ecco che in quei casi sarà obbligatorio portarla a tutela della propria salute e quella degli altri, perché vuol dire che la salute di tutti è ancora a rischio. Spero di essere stato molto chiaro, quindi nessuno verrà lasciato indietro. Se qualcuno al termine della consegna, dopo il 16 aprile, avesse necessità di ulteriori dotazioni, ce lo dirà, ce lo scriverà, potrà scrivere a questo indirizzo di posta elettronica mascherine-comune.massa.ms.it e provvederemo tempestivamente a integrare il rifornimento. Tenete conto anche che queste mascherine sono cosiddette mascherine chirurgiche monouso, ma se le terrete in maniera corretta, eviterete di contaminarle, le terrete magari alla sera, alcune fuori, dopo averle disinfettate, potrete utilizzarle diverse volte. Questo, ripeto, anche per non incentivare troppe persone a uscire di casa. Le persone che devono uscire di casa sono solo quelle preposte e soltanto quando devono uscire. Spero di essere stato chiaro, perché di gente ce n'è troppa in giro. Me lo ripetete tutti quanti voi, ogni giorno, in tutti i modi, con le mail, con i messaggi, con i commenti sui social, ma sono le persone che escono, non è che è il comune che autorizza. Probabilmente ci sono anche tante persone che escono perché lo devono fare, questo sia ben chiaro, perché anche soltanto una popolazione come la nostra, che deve uscire alla mattina per fare la spesa, parliamo di centinaia di persone che escono a fare la spesa. Questo però non vuol dire che siamo autorizzati a farlo liberamente, cioè non dobbiamo uscire senza il motivo della richiesta alimentare o proprio il motivo di salute, anche questo un altro motivo specifico. Le persone che girano, che corrono, che passeggiano, in realtà non fanno altro che propagare il virus a tutte le altre persone e quindi invito veramente state a casa, state a casa. Un altro dato importante è solo l'aggiornamento sui buoni spesa, consegnati un centinaio anche oggi, ricevute altre 200 domande che si assumono quelle che vi avevo già detto, più di 1200. Entro venerdì verranno consegnati, completeremo la consegna dei buoni spesa a tutti quelli che le hanno ordinate e le hanno fatto richiesta le domande la settimana scorsa. Quindi abbiate pazienza, se non vi arriva il giorno dopo, arriverà dopo due o tre giorni, ma arriverà a tutti, tutte le domande che vengono compilate correttamente, non ripresentate le due volte che affaticate gli uffici, cercate di compilarle anche online soprattutto, oggi ne sono arrivati 12 ma potreste mandarne molti di più. Quindi noi stiamo operando a tutto campo, servizi sociali, protezione civile, tutti gli assessori e tutto il personale amministrativo che ci sta dando una mano, il comune è qui pronto a venire incontro a quelle che sono le vostre esigenze. Quindi io faccio un appello, un invito veramente a insistere nel rispetto di queste norme. Siamo tutti provati, siamo tutti stanchi, lo capisco, stare a casa non è facile, però lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare per noi stessi, per la nostra comunità, per il futuro dell'Italia, per far ripartire più presto anche l'economia. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero di essere stato sufficientemente chiaro, per qualunque cosa scrivetemi anche la mia email sindacochiocciolacomune.massa.ms.it Io quando posso cerco di rispondere a tutti e quindi vi auguro buona serata e ci vediamo domani.